Nel video precedente mi avete fatto delle domande per chiedermi dei chiarimenti sulla questione pensieri negativi e pensieri positivi, ma allora anche i pensieri positivi va bene starci nei pensieri positivi o è meglio anche quelli evitarli? I pensieri negativi come funzionano? Quindi volevo un po' darvi una delucidazione su questo argomento. Adesso finisco di fare i video, poi yoga, anche la sera sto inserendo anche una bella routine di meditazione e di relax, prima di venire a letto perché sto dando importanza molto al sonno in questo periodo e poi si va a letto. Quindi mentre faccio le mie meditazioni mi vengono sempre dei pensieri e mi è venuto in mente questo commento che mi avevano fatto nel video scorso e ho deciso di rispondere ed è come mai pensieri negativi e pensieri positivi vanno trattati in modo diverso, anzi vanno trattati in modo diverso perché nel video precedente ho spiegato che la maggior parte, o comunque in realtà, tutte le nostre sofferenze arrivano da cose da noi create. Magari può arrivare un dolore esterno ma la sofferenza non è il dolore. Uno può darti un pugno e puoi sentire dolore, ma anche quello comunque qui ora. Se entra nella tua testa diventa sofferenza. Quindi tutto ciò che entra nella tua testa, i tuoi ricordi, il tuo futuro, tutto ciò che non è qui ora ma è nella tua creazione, quello può diventare sofferenza. E quindi come uscire da questi pensieri che possono farti star male tornando qui ora, tornando, uscendo un po' dalla creazione. Questo è un riassunto molto molto veloce che sembra magari una cavolata ma vi lascio il link in descrizione del video precedente per farvi la spiegazione più complessa. Quindi tornando qui ora, concentrandosi su qualcosa che esiste veramente, quindi il respiro attorno a te, dei suoni, dei rumori, torni qui ed esci un po' da questi pensieri. Ti accorgi che pian piano allenandoti in questa cosa, la meditazione serve a quello, ti accorgi che soffrire diventa sempre più difficile. Perché? Perché ti accorgi che è la tua testa che non lo fa apposta ma i pensieri che crea, diciamo che non creandoli consciamente, quindi non sapendo quello che stai facendo come uno strumento utilizzato un po' a caso, crea per moltiplicazione e quindi tendenzialmente le cose che ci entrano più in testa sono quelle negative o problemi, cose che ci preoccupano e quindi moltiplicando quelle ovviamente inizia ad essere un problema, inizia a entrare nella tua creazione, nella tua testa sempre di più fino a che diventa un problema. Quindi non è una questione di fare discriminazione tra pensieri positivi e negativi, ma è questione di capire come creare in modo conscio pensieri che possono aiutarti. È come dire, ho una macchina e la guido in modo positivo o negativo? No, la guidi per quello che ti serve. Quindi se vuoi arrivare da A e B ti serve fare così, così, così. L'importante è che non ti identifichi con questi pensieri e li usi in modo conscio, perché se la macchina la fai andare a caso e fai così, magari prima o poi ci arrivi, ma sbatti dappertutto, ti fai male ed è un disastro. Stessa cosa con la mente. È uno strumento potentissimo, ma proprio perché è così potente e così creativo, quando gli dai qualcosa e gli dici non pensare a quella cosa, lui per moltiplicazione pensa solo quella. Non puoi togliere cose dalla testa. È come una fabbrica dati che continua a lavorare su dati che tu gli poni. Quindi l'importante è vederlo come strumento, ma non entrarci, perché se cerchi di risolvere i problemi della mente, rimanendo nella mente, non ce la farei mai. Devi uscire e vedere questo strumento da fuori. Avere della prospettiva. E perché nel video precedente ho detto, quando poi da fuori vedete dei pensieri, se sono negativi, lasciateli passare, non serve neanche giudicarli, lasciateli passare. È la mente che funziona di per sé, come il cuore va da solo, come tutto va da solo, ma non è che gli diamo troppo, non ci diamo troppo peso. Stessa cosa. Ma quando li vediamo positivi, diamoci magari un po' più di attenzione. Non è perché devi per forza creare i pensieri positivi. È che i pensieri positivi in realtà ti fanno star bene e i pensieri negativi ti fanno star male. Quindi se impari a essere conscio e utilizzi la mente per dei pensieri che ti possono essere utili o comunque che ti fanno star bene, puoi sicuramente utilizzarla in modo consapevole per farti star bene. È lo scopo della mente, farti vivere al meglio come uno strumento che ti può servire nella vita e comunque anche a livello interiore. L'importante è che non ti identifichi né coi pensieri positivi né coi pensieri negativi. Quindi nel dubbio tu puoi semplicemente evitare tutto come parte di te. Ma quando hai un po' più di maestria in questa cosa ti accorgi che puoi, un po' come quando tocchi col piede nella piscina per vedere se è caldo o freddo, puoi un po' divertirti con questi pensieri, dato che non sei più così attaccato a questi pensieri, non sei più identificato con essi, che anche un pensiero di rabbia, un pensiero negativo, un pensiero di frustrazione, anche pensieri negativi, puoi avvicinartici un po' per osservarli, studiarli, vederli, magari anche da dove arrivano, capirli, ma senza essere toccato e avvelenato da essi. Idem, quando vedi pensieri positivi, puoi giocarci, entrarci, divertirti, sentirli, goderteli, ma allo stesso tempo anche lì non devi entrarci. Devi goderteli, ma rimanendo comunque conscio che si trattano sempre di pensieri. Si tratta della tua creazione, si tratta di qualcosa che hai autocreato. E quindi non è questione di dividere pensieri negativi, pensieri positivi, evitarne uno, evitare l'altro. Anzi, ti accorgi che quando diventi conscio, quindi quando impari con l'esercizio a uscire un po' dalla testa, ti accorgi che in autonomia la tua mente farà sempre meno rumore, rimarrai sempre un po' più nel qui e ora, nella vera creazione, e consciamente, quindi quasi un po' scegliendo, se ti servirà un certo tipo di pensiero, lo potrai anche produrre in autonomia. Il pensiero crea un'emozione, l'emozione crea un'azione, l'azione crea un risultato. Quindi potenzialmente diventi veramente padrone del tuo destino, nel momento in cui sai rispondere a delle circostanze con dei pensieri che scegli tu, invece che reagendo compulsivamente. Tutta la sofferenza arriva da qui, tutta l'ignoranza arriva da qui, tutto lo star male arriva da questa semplice cosa. Lo yoga, quindi l'unione dal sanscrito, la felicità, l'inclusività arriva tutto in modo automatico nel momento in cui scegli e sei consapevole. Perché? Perché se puoi scegliere, se sei consapevole di scegliere i tuoi pensieri, non importa quello che accade fuori, le circostanze, se puoi scegliere, scegli un qualcosa, un pensiero negativo che ti avvelena o ti fa star male, o un qualcosa che comunque ti può far star bene, o non serve che ti fa star bene, ma almeno ti fa risolvere quella cosa nel migliore dei modi. Se puoi scegliere, certo che scegli di star bene. Quindi in autonomia questo corpo, questo strumento incredibile è la fabbrica all'interno di noi, chimica più potente al mondo, dentro di noi ci sono già tutti gli strumenti necessari per creare la chimica che vogliamo, stare come vogliamo e diventare consci quindi di questa cosa, apre le chiavi veramente a qualsiasi cosa. Perché poi se riesci a rispondere a qualsiasi cosa, come vuoi tu, non importa quello che accade attorno a te, dentro di te sei una roccia, sei stabile ed è quello che viene definito yogi, qui ora quindi unito, perché non sei più da solo qui dentro, ma sei qua fuori con il tutto. Questo significa unione. Vi lascio in descrizione un video sulla positività e perché non ha senso la positività. Fatemi sapere cosa ne pensate, per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram, Marco di 97, ci vediamo in prossimo video.